Silvano Allasi La loro convivenza durava ormai da 10 anni e entrambe avevano alle spalle un matrimonio Ultimamente i rapporti però si erano deteriorati, i letigi erano all'ordine del giorno e la separazione forse vicina Fino ad arrivare al tragico e folle gesto di ieri mentre i figli della coppia di 8 e 10 anni si trovavano in un'altra stanza della casa di Frazione San Bernardo E' stato lui stesso a comporre il 118 ma i soccorsi sono risultati vani poiché Silvano Allasi era già morta Gioia ha poi seguito senza fare resistenza i carabinieri che lo hanno accompagnato in caserma per rispondere alle domande del sostituto procuratore Bolla Era stato il primo italiano a scendere con gli sci dal Cho Oyu E' stata una grande emozione dopo tanti giorni passati sulla montagna in tenda al campo base per l'acclimatamento Sentire correre gli sci sotto i piedi a 8000 metri lanciando ogni tanto un'occhiata ai lunghissimi ghiacciai che si snodano verso il Tibet giù Molte migliaia di metri più in basso Mario Monaco aveva raccontato così la storica discesa a sci ai piedi dagli 8201 metri da una delle vette dell'Himalaya L'esperto sci alpinista cinquantenne ha perso la vita ieri a causa di un tragico incidente avvenuto nel massigio di Charbonnel Nella regione delle Hot Alps durante una salita in solitaria a quota 3760 metri A pochi giorni delle elezioni amministrative 2014 Confindustria Cuneo organizza 5 appuntamenti tra gli imprenditori e i candidati sindaco di alcune delle maggiori città della provincia di Cuneo Coinvolte nella tornata elettorale Gli incontri in cui i candidati sveleranno i programmi previsti a supporto delle attività industriali nei loro comuni Si svolgeranno nei seguenti giorni e luoghi Oggi mercoledì 7 maggio alle 18 ad Alba presso la sede della Confindustria Venerdì 9 maggio alle 18.30 a Bra presso l'auditorium della CR Bra Lunedì 12 maggio alle 18 a Savigliano presso l'ala Polifunzionale Martedì 13 maggio alle 18 a Fossano presso la sala semi-interrata del Castello degli Acaia Venerdì 16 maggio alle 21 a Saluzzo presso la sala degli specchi della Fondazione Amleto Bertoni Martedì 13 maggio è previsto il passaggio su applicativo Ippocrate, nuovo programma di prenotazione dell'area di Savigliano, dalla stessa data pertanto tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno gestite sullo stesso applicativo di prenotazione, Accettazione Cassa con l'esclusione delle aree gestite sugli applicativi Dedalus, Spidi, NPNet e Babele Al fine di effettuare il passaggio dei prenotati da GRC a Ippocrate si informa che dalle ore 13 di venerdì 9 maggio e per tutta la giornata di lunedì 12 maggio saranno chiuse le prenotazioni degli ambulatori dell'ospedale di Savigliano sia telefoniche sia a Sportello per il passaggio a nuovo applicativo informatico di prenotazione Le prenotazioni riprenderanno il 13 maggio sul nuovo sistema L'ufficio denuncia della Polizia di Stato di Cuneo ha purtroppo rilevato che in questi giorni alcune persone, rimaste per ora sconosciute, stanno mettendo in atto una truffa che almeno per le modalità attraverso la quale viene eseguita è del tutto nuova in questa provincia Due o più persone di media età italiane ben vestite e gentili suonano alla porta di condomini e case e propongono l'acquisto di una strumentazione che dovrebbe servire per misurare eventuali fughe di gas L'acquisto di tale strumentazione viene definito non solo utile ma anche indispensabile per mettersi in regola con una nuova norma di legge In realtà non esiste nessuna legge né nuova né vecchia che obblighi all'acquisto di tale dispositivo Si avvertono quindi i cittadini a diffidare di chiunque voglia entrare in casa per mostrare un dispositivo rilevatore di gas spacciato come strumentazione imposta a nuove norme di legge In caso di dubbio, telefonare al 113 Per il quinto anno consecutivo va in scena Nebbiolo I la manifestazione che porta in scena le più note espressioni del vitigno piemontese L'anteprima delle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero giunta alla quinta edizione si terrà dall'11 al 16 maggio presso il Palazzo Mostro e Congressi di Alba Complessivamente saranno circa 220 le aziende e 600 i vini presentati Numeri che rendono la manifestazione uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al settore 100 giornalisti di fama internazionale si daranno appuntamento nel cuore delle langhe per degustare le annate Barolo 2010 e Riserva 2008 Barbaresco 2011 e Riserva 2009 Roero 2011 e Riserva 2009 L'evento si articolerà in 5 giornate con una formula rinnovata che si propone di assecondare le diverse esigenze dei partecipanti permettendo ad ognuno di scegliere tra un programma leggero ed uno intensivo